Si può parlare ormai di terza ondata anche nell'Aquilano. Dopo il picco di ottobre e novembre della curva e dopo la tregua di gennaio i contagi sono tornati a salire anche sul territorio. Già la scorsa settimana il primario di malattie infettive Alessandro Grimaldi aveva parlato di ripresa dei ricoveri anche nell'Aquilano. Per rendersi conto della situazione basta poi vedere i numeri che caratterizzano ad oggi l'ospedale San Salvatore. I 13 posti covid per la terapia intensiva del G8 sono pieni come anche pneumologia. Il trend è in crescita anche secondo il primario di terapia intensiva e rianimazione Franco Marinangeli che ha invitato a comportamenti corretti riferendosi soprattutto ad alcune foto che hanno fatto il giro del web riguardanti il centro storico e la presenza di molti giovani determinate giornate. Nonostante la chiusura delle scuole insomma i numeri crescono. Il covid in questo momento sta colpendo sempre più giovani e la difficoltà è data dalla presenza di varianti che sono molto più contagiose. In tutto questo ci sono alcuni casi che riguardano alcuni comuni ormai rossi. Pizzoli, Cagnano e Castelvecchio su Beco nell'Aquilano. A Pizzoli dopo i due casi di variante inglese tra alunni delle scuole nel giro di poco tempo si è passati da 40 positivi ad oltre 75. Lo screening di massa per la popolazione scolastica fatto nei giorni scorsi ha dato 5 positivi tra i bambini della primaria su 250 tamponi eseguiti. Anche a Cagnano ci sono una ventina di positivi e il sindaco Isida di Martino aveva già chiuso la scuola dell'infanzia a causa della positività del personale della mensa. Qui ci sono 1300 abitanti. Anche Castelvecchio su Beco rappresenta un caso. Qui il sindaco si è trovato costretto a chiudere uffici comunali per la positività di alcuni dipendenti e nido infanzia sino al 17 marzo. Diversi casi sono stati registrati tra alunni e docenti anche nell'istituto comprensivo Comenio di Scoppito. Insomma la situazione torna osservata speciale anche all'Aquila e la speranza di far presto con le vaccinazioni. In tutto questo monta la protesta dei docenti pendolari che lavorano fuori Abruzzo che non potranno vaccinarsi per ora è anche quella dei pazienti realizzati.